Oggi ci vuole coraggio a parlare di gioia, ci vuole soprattutto fede. Il mondo è assillato da tanti problemi, il futuro gravato da incogniti e timori. Eppure il cristiano è una persona gioiosa e la sua gioia non è qualcosa di superficiale ed efimero. Ma di profondo, è stabile, perché è un dono del Signore che riempie la vita. Prima della recita dell'Angelus, Papa Francesco ha ricordato che nessuno, escluso dalla salvezza, è che Gesù ci indica sempre la strada dell'amore fattivo per il prossimo. Anche al peggiore dei peccatori non è preclusa la strada della conversione, perché Dio è ansioso di usare misericordia verso tutti e di accogliere ciascuno nel tenero abbraccio della riconciliazione e del perdono. E soprattutto in questa terza domenica di avvento è importante approfondire la dimensione della gioia dell'essere cristiani, una gioia che sarà ancora più facile sperimentare durante il Giubileo della Misericordia, che oggi ha visto l'apertura della Porta Santa di San Giovanni in Laterano e di tante altre nel mondo, anche nei luoghi di disagio e di emarginazione, come le carceri. Dopo la preghiera mariana il Pontefice ha salutato tutti i detenuti nel mondo, auspicando che ogni individuo nei prossimi 12 mesi possa farsi strumento della tenerezza di Dio. Tre pensieri di Papa Bergoglio, anche la soddisfazione per l'accordo definito storico raggiunto sul clima a Parigi e la conferenza ministeriale dell'Organizzazione Internazionale del Commercio, che si aprirà a martedì a Nairobi in Kenya. Grazie a tutti.